Facciamo la recensione in live di From Dusk Till Down Dal tramonto all'alba Coach Media mi ha mandato questo film Dal tramonto all'alba Dal tramonto all'alba è uscito in formato Blu-ray e DVD con Coach Media e non con Midnight Factory Chiaramente, come al solito, c'è sempre qualcuno che è scontento e che dice Ah, ma perché non è uscito con Midnight Factory? Perché facciamo delle domande così banali? È evidente, e lo voglio spiegare in modo didascalico che se non è uscito con Midnight Factory è perché non poteva uscire con Midnight Factory non perché in Coach Media sono tutti pazzi e allora decidono di fare le cose così Grande Mirko, benvenuto In Coach Media avranno tentato sicuramente questa è una cosa che suppongo io quindi me ne assumo la responsabilità è una mia supposizione basata sul niente quindi io immagino che avranno pensato in tutti i modi di far uscire questo film in una classic quantomeno perché è già un classic ha più di vent'anni questo film è già un classico quindi già poteva uscire con una classic poi se uno voleva proprio metterci anche i sequel che non mi sembra di aver visto ma pare che siano orrendi voleva fare la trilogia ci metteva anche il 2 e il 3 quindi se non è uscito con Midnight Factory ragazzi è semplicemente perché non poteva uscire con Midnight Factory per situazioni che noi non possiamo sapere quello che vi posso garantire è che se c'è un buon prodotto da far uscire con Midnight Factory e loro lo possono far uscire lo fanno uscire è una domanda sciocca dire perché non è uscito con Midnight Factory veniamo a questo fantastico film diretto da Robert Rodriguez scritto da Tarantino ma anche da un altro soggetto vado nei miei appunti intanto anche cerco il trailer allora è la prima volta che lo vedo in lingua originale ne sono felicissimo ringrazio Coach Media per questa opportunità ed è un'opportunità che dovreste cogliere anche voi secondo me visto che il film probabilmente già lo conoscete chissà perché dal tramonto all'alba Salma Hayek è la seconda suggestion che compare su Youtube chissà perché accontentiamoci dell'italiano non c'è più tempo nada non c'è via di scampo il genio di Pulp Fiction ritorna Quentin Tarantino George Clooney Juliette Lewis Chris Sì Marti Caitello siamo in Messico ce l'abbiamo tanto questi sono i locali che mi piacciono tremendo il tuo piaccio perdonatene ma lo so 1 2 aspettate un momento non c'è motivo di litigare buscando una fiesta bellissima bellissima le canzoni sono bellissime basta così dal tramonto all'alba manteniamo la calma mantieni la calma che ho detto non facciamoci notare hai presente che vuol dire non facci notare Quentin è tornato Quentin è tornato ragazzi chi è figata cioè solo vedere il trailer ci viene la pelle d'occa dall'emozione allora l'ho potuto rivedere finalmente in lingua originale e sono felicissimo di questo perché effettivamente è proprio è proprio figo è proprio figo in lingua originale allora il film è scritto da Robert Kutzman e Quentin Tarantino in realtà la sceneggiatura di questo film è una sceneggiatura che Quentin si portava li ravanava nel cervello dai tempi del liceo ed è diciamo nella sua prima parte quella legata diciamo agli ai criminali che devono scappare in Messico un po' un classicone è diciamo presa da Gateway che è un film con Steve McQueen tra l'altro che non ho visto cercherò di vederlo quindi solo la prima parte è presa da quello poi la seconda parte che c'è questo twist incredibile chiaramente chi non ha visto d'altro momento all'alba non guardi questa questa live si fermi qua adesso perché qualche spoiler c'è chiaramente stiamo parlando di un film incredibilmente famoso incredibilmente cult e quindi sfermatevi qua da qua inizia lo spoiler da metà film arrivano i vampiri lui voleva fare una parte orrorifica dove c'era qualcosa in stile non la notte dei morti viventi ma alla fine optò per qualcosa con i vampiri tant'è che se voi guardate il film vi rendete conto quanto il contagio tra i vampiri è molto da simile a quello che c'è con gli zombie quindi basta un morso un graffio una cosa e adesso non sono sicuro sul graffio però basta un morsettino e il contagio ti trasforma in un vampiro diciamo che sono dei vampiri molto reinterpretati molto liberi è un modo libero di interpretare il genere ma in realtà tutta la seconda parte è un grande tributo ma anche destrutturazione del genere cioè un po' un grande scherzo diciamo un po' un grande scherzo e quindi lui ha scritto questa questa sceneggiatura che ha due anime no? quest'anima un po' più palpo un po' più crime con i rapinatori George Clooney e Quentin Tarantino e poi una seconda parte più di genere horror voleva interpretare o comunque ha deciso di interpretare uno dei due fratelli Quentin Tarantino quindi non ha voluto fare la la regia ed hanno assegnato diciamo assegnato la regia a Robert Rodriguez che mi sembra all'epoca avesse fatto solo Desperado e il Mariachi che erano due film più o meno simili molto carini tra l'altro su pistoleri e roba messicana Rodriguez però era famoso ma non così tanto non come lo è diventato poi con questo film il film però era venduto come arriva il nuovo film di Quentin Tarantino anche se non era diretto da lui è un film di Tarantino nel senso che lo produce lo spi cioè è una sua creatura una caratteristica incredibile che lo rende lo rende subito un mega cult è il cast perché il cast ragazzi c'è uno sconosciutissimo George Clooney che prima di questo film aveva fatto forse le invasioni come si chiamano i pomodori killer e poi i har praticamente c'è Quentin Tarantino nella parte del fratello maniacosessuale c'è Harvey Keitel c'è Juliette Lewis c'è un giovanissimo Danny Trejo insomma c'è un bel cast è un cast potente insomma Harvey Keitel era già un attore molto serio molto importante quindi alza tantissimo alzava tantissimo il tenore della pellicola Juliette Lewis mi sembra che avesse già fatto Natural Born Killer comunque un personaggio veramente cioè a me è sempre piaciuta come attrice come personaggio ci stava qua funziona benissimo pare che pare che adesso vi leggo i nomi perché me li ero segnati che per il ruolo di George Clooney fosse stato chiesto prima ad altri attori tra cui Michael Madsen Antonio Banderas Steve Buscemi Tim Roth Christopher Walken e John Travolta che rifiutarono per impegni questo è ciò che dicono i rumor ciò che dicono ufficialmente le cose poi c'è da dire anche che un anno prima Quentin Tarantino aveva diretto un episodio di AR e quindi uno più uno io non so quanto ci sia di vero sul fatto che tutte queste persone hanno rifiutato il film di Quentin anche perché poi sono attori che poi con lui hanno lavorato quindi non lo so comunque sta di fatto che comunque se vi interessa l'episodio di AR che è diretto da Quentin si chiama Motherhood andatevelo a vedere insomma non ricordo quale fosse ho guardato un po' di AR nella mia vita ma poi dopo un po' insomma Mester queste soluzioni di sopo operano un po' scocciano comunque sicuramente si erano conosciuti si erano piaciuti un film folle super dinamico dove capiamo un po' la follia dello stile della regia quando vediamo all'inizio i due fratelli parlare è uno dei due a parte una bellissima scena in una stazione di servizio dove fanno fuori tutti cioè veramente una roba ma anche un po' ignorante anche un po' ignorante perché c'è il commesso della stazione che prende fuoco perché loro gli danno fuoco e mentre sta bruciando esce fuori dal bancone e inizia a spararli contro invece che tormentarsi tra le fiamme quindi questo fa capire un po' il tenore della pellicola già da subito poi quando sono in macchina e fuggono cercando insomma una soluzione per scappare dalla polizia si vede Quentin Tarantino che guarda il fratello guarda il personaggio di Quentin che guarda il fratello attraverso il buco che ha nella mano quindi insomma i presupposti sono di un film delirante delirante ma credibile e divertente sempre incontrano la famiglia che è guidata da Harvey Keitel che è un prete che è un pastore che ha perso la fede perché la moglie è morta con i figli il figlio ecco il figlio asiatico è l'attore più debole di tutto il film anche in versione in lingua originale ha due battute e le dice male mi dispiace ma è proprio così cioè noti proprio come non gli sia proprio venuta bene questa cosa però in fin dei conti è un film veramente estremamente divertente una delle scene che io amo di più è il adesso non mi ricordo il nome dell'attore si chiama Chick Marine l'attore che interpreta tre ruoli all'interno del film il check pussy check pussy è quello che dice è che il check file butta dentro dentro al locale tt twister mi sembra che si chiami e fa il check pussy perché dice ci sono le le pussy insomma le fighe di tutti i generi quindi rasata non rasata e fa il check pussy esatto quindi quello è il personaggio che lui fa poi fa il il poliziotto di frontiera e poi che altro personaggio fa ah si fa Carlos l'uomo dell'appuntamento che insomma i due fratelli devono incontrare con cui hanno un accordo devono incontrare altri tt twister insomma è veramente una bellissima una bellissima cosa che faccia questi tre personaggi perché fa abbastanza ridere vederlo ricomparire sotto altre forme magari qualcuno non se ne accorge ma ma è così insomma sarà che in quel periodo ero distratto quando sono andato a vedere questo film non pensavo di vedere un film di genere di quel genere diciamo del genere horror perché Rodriguez aveva fatto i Desperados Tarantino aveva fatto i film di gangster e quindi io mi aspettavo di vedere un film di gangster quindi veramente grande sorpresa per me nella mia totale rimbambitaggine a metà film scoprire che è pieno zeppo di vampiri cioè io ero lì che urlavo dalla gioia cioè è veramente una cosa che non mi aspettavo assolutamente oggi questa esperienza non la potrà mai vivere nessuno perché D'Alta Monte all'Alba è famoso come un film di vampiri quindi nessuno potrà essere così svampito come lo sono stato io da vederlo senza avere qualche indizio sull'argomento quindi però vi assicuro che se riuscite a vederlo o se siete riusciti a vederlo senza sapere diciamo che sarebbe si sarebbe voluto in quella maniera non è male come esperienza pensare di vedere un film pulp un film di crime con gangster eccetera che si trasforma in quella maniera oggi sarebbe impossibile perché con internet tutto molto più semplice ma all'epoca o ti compravi una rivista e leggevi di quel film oppure potevi anche non saperne un cazzo quindi potevi tranquillamente vedere un trailer non accorgerti di nulla o non vedere il trailer e andare al cinema questo episodio è impossibile replicarlo nei giorni nostri mi piace un sacchissimo il personaggio di Quentin cioè per me è un po' un peccato che non abbia continuato la carriera di attore perché veramente mi piaceva era una faccia strana Quentin era una faccia strana ciao Luca Quentin ha una faccia con il mascellone nel ruolo nel ruolo del fratello psicopatico dal tramonto all'alba funziona bene cazzo sembrava veramente un pazzo ti dava un senso di incertezza su quello che poteva succedere incredibile bellissima e ovviamente la cosa più cercata su youtube la scena con Salma Hayek anche essa sconosciutissima un po' come Clooney al grande pubblico e diciamo che ha messo in mostra di tutto e di più insomma un po' la sua bellezza perché non è una bellezza solo di forme è anche una bellezza molto messicana proprio con colori scuri è proprio una bella messicana diciamolo pare che la coreografia che lei interpreta nel film sia del tutto improvvisata quello che ho letto però è che lei aveva una grandissima fobia per i serpenti e lei inizia la danza con un pitone bianco attorno al corpo e quindi ha fatto una sorta di terapia intensiva di due mesi per togliersi la paura per questi rettili quindi non ha detta in parole povere Sal Mayek non ha più avuto paura del pitone e e niente ci ha fatto ci ha fatto la scena la scena è super 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 eccitante è veramente una scena super eccitante non c'è un cazzo da fare è proprio una roba meravigliosa tutto si trasforma in un bordello ecco ecco quando ho visto il film vi ricordo vagamente che avevo capito che qualcosa stava iniziando a vertere sullo strano lo strange perché ho visto Tom Savini che era l'unico per me molto riconoscibile dell'ambiente horror allora ho visto Tom Savini che faceva Sex Machine con la pistola a forma di cazzo si può dire cazzo penso proprio di sì Sex Machine con la pistola a forma di cazzo lì avevo iniziato a dire ah ok qua c'è qualcosa di strano in questo film e poi vabbè vampire cosa è anche un po' un film incoerente cioè un vampiro muore in un modo facile un altro più forte insomma sembrano poi a un certo punto lo dice lo dice perché i vampiri nel film lo dice sono hanno la pelle poco resistente ed è facile trapassarli questo secondo me è un ottimo input che dice nel film perché se no la sensazione è che tu vedi Juliette Lewis magra piccolina che mette un paletto nel petto di un nomone non gli puoi credere a questa scena mentre invece spiegata così già già c'era sì c'è l'abbiamo già detto prima c'è anche un giovanissimo Danny Trejo non fa molto però inizia a farsi vedere giovanissimo giovanissimo George Clooney giovanissima Juliette Lewis giovanissimi solo Harvey Keitel era già vecchio però gli altri veramente tutti giovanissimi e quindi si può tranquillamente definire un film che ha più di vent'anni si può definire tranquillamente un mega cult non è un film dal montaggio alternato ma chiaramente essendo un film di Rodriguez se l'è montato all'altro se l'è montato Rodriguez perché ho guardato nella scheda per curiosità io guardo le schede capisco un po' se l'è montato da solo insomma sono registi a cui piace avere il controllo un po' su tutto anch'io ho visto il film con l'effetto sorpresa della seconda parte questa secondo me è la cosa migliore se la gente riesce a goderselo senza sapere questa parte è meglio infatti io all'inizio della live l'ho detto non guardate la live se non conoscete vabbè ormai è tardi io l'ho detto all'inizio perché sicuramente sembra un crime movie un film di gangster alla Iene o Pulp Fiction o appunto anche Disperados che sono i film di Rodriguez comunque comunque è un film che ha fatto bene alla carriera di Rodriguez ha fatto benissimo la carriera di George Clooney molto molto bello molto molto bello l'edizione è uscita appunto non in midnight non vi lamentate in questa non ha contenuti speciali questa è sicuramente una cosa che spiace ma evidentemente se non ci sono perché non non erano disponibili comunque averlo in blu-ray già è comunque tantissima roba soprattutto vederlo in lingua originale che è molto meglio secondo me è un grande film per chi guarderà questo video su youtube vi invito a lasciare un commento sul film se vi va trovate il link per l'acquisto nell'info box e vi invito a venire su twitch a farmi compagnia dove possiamo parlare e fare appunto anche recensioni dal vivo questo è tutto iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima per quelli che rimangono qua a farmi compagnia su twitch che è la mia casa vediamo un po' che cosa mi sono comprato e che cosa mi è arrivato da recensire che cosa mi è arrivato a farmi compagnia Grazie.